stavo per premere registrare quando mia sorella stava parlando col cane quindi usciva fuori mia sorella che diceva prindilo dai con la vocina da bimba va bene ed è intesa la palla comunque la pallina sua prendilo dai comunque mi vedete agitarmi perché nel mentre sto giocando con il mio cane con la palla per tenerla ferma ecco la palla doveva essere una palla ma la una palla sferica ma adesso ha una forma non definita comunque ben ritrovati come al solito in compagnia delle sorelle del tubo noi siamo sempre io sono sempre analisa noi siamo noi siamo sempre io sono Valentina e noi siamo le e il mio sisters oggi siamo un po' fuse abbiamo cominciato l'anno da da più fuse di quanto non l'eravamo l'anno scorso comunque pensate che ancora all'inizio mi sono preoccupate di sta cosa andiamo avanti con altre video richieste sempre dal nostro caro amico chingu richard madden richard madden richard con un'altra richiesta della nostra ormai famosissima so young come si fa a non proporla una canzone di oggi si chiama dream com com quindi senza ulteriori luci procediamo 2 1 chimica mi era confusa 2 1 e io dico noi tu dici sembra più sei anche come vestita spuntosa adoro violini no ci ha fregato so young ci ha fregato sembrava una canzone più movimentata ed è partita di nuovo piano no no so young queste cose non si fanno però abbiamo i sottotitoli in inglese brava almeno si può dire a cappella stavo pensando mi hai solo anticipato ma lo stavo per dire io giuro praticamente a cappella che non c'è nessuno c'è solo la sua voce dal vivo adesso parte la musica beh era solo l'inizio e se leggermente un po' di ritmo c'è bene Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Carino e l'ultimo ragazzo per fuori. Grazie. Wow. Allora, questa volta So Young mi ha sorpreso, perché come al solito è meravigliosa, non c'è altro da dire, però stranamente non era una ballad veramente a livello... È partita come ballad, infatti pensavamo che ci avesse preso in giro. Sì, eravamo un po' diffuse da questa cosa e poi... Diciamo che è stata un po' più scoppiettante. Addirittura abbiamo capito anche che cosa diceva a sto giro, perché c'erano i sottotitoli in inglese, quindi anche voi spero che avrebbiate capito qualcosa, ragazzi. Comunque parlava di sogni, lei spera di volare più in alto, di raggiungere i suoi sogni. Cum. Cum. Impariamo anche una parola nuova. Cum. 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 Assordato che comunque è stata una canzone, forse secondo me la più bella di tutte. Sì, perché era più movimentata, sì, mi è piaciuto anche l'era. L'ho preferita fra tutte le canzoni di So Young. Benissimo, quindi siamo in due. Assordato questo, piaciuto entrambi, come al solito. Che cosa possiamo dirvi ancora? L'ho alzato. Vi diamo appuntamento alla prossima video reaction. Rimanete con noi ragazzi, non ci abbandonate, mi raccomando. Alla prossima. Annyeong. Goom. Come. 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 Grazie a tutti.